Ciao a tutti ragazzi, bentornati o ben arrivati sul mio canale, sono LenoxD e oggi come avete detto dal titolo userò le prestazioni alfa cosa sono le prestazioni alfa? Sono queste qui in grafica avanzata per chi non lo sa sono queste qui metà di rendering, prestazione alfa come non ho detto dovrebbe migliorare teoricamente gli fps su fortnite negli ultimi video mi sono accorto che l'ago un sacco quindi non ho ancora provato a registrare le impostazioni alfa per vedere com'era quindi questa è la prova, voglio provarla per qualche giorno l'avevo già provata in passato solo che laggava tantissimo e l'ho tolta però avevo solamente fatto un game, poi l'ho rimessa qualche giorno fa ho fatto un po' di game e adesso diciamo che non lagga più però mi faccio una singolo perché arena, sono in arena divisione 3 mi manca poco per avere in divisione 4 ma non mi sembra il momento di farlo perché ci sono quei, come dire, ci sono quei pusher non in quel senso, e invece di sicuro ci sono quelle cavolo di navi ma visto che mi mancano solamente 125 punti proviamo con arena tra l'altro una cosa che non mi piace è che il mantello è tutto baggato quindi non posso neanche mettere il mantello su Loki è baggato così, allora qua non si vede però il game è baggatissimo e non mi piace per niente, quindi sono costretto a tenere la skin di Loki senza mantello comunque se non avete ancora visto il video di Loki lo trovate qui sotto in descrizione vedete anche lì che laggo, vedete anche quello di Thanos che è laggo le lascio gli entrambi qui sotto in descrizione se non mi ricordo ovviamente conoscete tutte queste prestazioni alfa le conoscevo anche io ma non le ho mai volute usare perché mi rendeva il gioco, beh, come lo stai vedendo adesso ci sono anche le costruzioni in questo modo che non mi piacciono per niente ma se riesco a fare un video senza laggare beh, lo faccio per voi quindi, allora, prima di accalacredente ah no, non posso andare, sì, potrei andare accalacredente sperando che mi vende il pompa blu o che ci sia la macchinetta perché qua o c'è la tizia, il bot che è Sunny che vende il pompa blu oppure qua ci dovrebbe essere la macchinetta che ti vende i pompa o vado lì oppure non lo so quindi se voglio andare lì è meglio che mi muovo dunque ragazzi, quando voi starete guardando questo video io sarò già in vacanza mi farò una settimana a Napoli quindi voglio cercare portare tutta questa settimana un video al giorno spero di riuscirci allora, tiriamo lì allora, non sto laggando gli FPS stanno andando a... oddio a 45 ah, che non laggo allora, tac blu abbiamo un buon... uno start ecco, sono incartato con i tasti cerchiamo di non prendere solamente i punti dei top vorrei prendere anche i punti dei... dei player che... cioè dei player, delle uccisioni sto facendo questo video perchè poi magari guardate qua l'acqua è bella sto facendo questo video anche se... anche... oh io riesco a parlare o cosa vendi? vendi... ah tu sei un alieno no, sto facendo questo video perchè magari poi i prossimi giorni vedete i video di forte li chiedono perchè avessero la modalità rendering oppure le prestazioni alfa ecco, ora... stanno ammazzando non mi piaceva se non riesco alla mischia oddio no e le costruzioni vanno veramente così no guarda mi ha sbucciato oh cavolo questo è lì è morta ancora io scappato ah no vai, 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 vai dentro 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 boom baby beh, dai, diciamo che non è male questo è anche il pump viola no, ragazzi sempre buono eh, non so cosa fare vorrei il tac che facciamo così prendiamo entrambi ma questo qua lo vado a nascondere la prima parte ho facciato 5 punti eh, non mi ricordo quel punto che stavo prima ecco, ma lo vedete ho fatto anche che non mi rende il diritto su tutte le cose non è che mi faccio infanzire però non so esatto non so che pompa a prendere perché questo qua cioè, il testa sciogli però il tac spamme di più ti avessi un tac viola questo questo dilemma esistenziale non ci sarebbe ah, uno dei problemi principali sono materiali, ragazzi quando ho messo i lama in quel modo io io ho a prendere i materiali perché io non sono abituato a prendere i materiali di solito nelle scorse stagioni trovo un lama prendi in ogni partita però non per vantare ma sì e loro mi davano i materiali ma non sono più abituato a prenderli no, l'assalto possiamo minare i macchi se te frega spendere e spandare a volte scelti più difficili occorre una volta anche feria vediamo questo cecchino e andiamo via spero di aver fatto la cosa giusta che falle ci posso chiedere parlando di lama guardate un po' che abbiamo trovato qua un lama riusci a prenderlo a investirlo vai dai vai 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 è di sciolta l'uomo è di sciolta lo scopri lo scopri lo scopri ok 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 ho preso questo è molto utile anche se preferisco tra i miei scudini e devo lasciare un po' eh ci ho creato tutto il lama adesso mi fa niente oh perché dicevo che l'arena non va bene vai vieni se hai le pali vieni vai forza forza tira fuori il coglione vieni a prendermi un botto di materia vai no infatti non prende sotto prende lo scopri lo scopri Ah, questa è una bella fatica. Fuori in zona sicura! Vieni qua, mi pusci, mi uccidi e io sento la sua. Oh, adesso c'è il cicchino viola, grazie, 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 faccio velocemente usiamo questi, tanto la tempesta è lenta, sono vicino ad aver sprecato il ferro, almeno posso recuperare sia il mattone che è stato qua, sia il legno, ok, sono di nuovo full, il legno non sono full, mi spiace tutto questo ferro, tutto questo mattone qui e tutti questi scudini qua. E io ho stato 83? Dai, non è che danno dal fuoco, come fa non morire? Dai, forza, muori! Eh vabbè dai ragazzi, nel fuoco come fa non morire, come fa essere ancora vivo? Come ho fatto non beccato il vero headshot! Poi mi pensavo che fosse ancora lì! Dai che f***e spalle! Eh! Oh! Vedè, ah no, ancora lui! Ah no, ancora lui! Headshot! Adesso è entrato sicuramente, lui no! ... ... ... ... Merda Oh, non ci posso cadere, è caduto anche lui Ma che cos'è questa partita, cioè Mamma mia ragazzi, vittoriale in arena, questo soggetto, non so che registrarla Ma cos'è, sono caduto anche lui, è caduto anche lui, è caduto anche lui, è caduto anche lui Quante kill? 5 kill E infatti sono in divisione 4 ragazzi, ma non ci posso mai credere, non me lo sarei mai aspettato Non l'ho laggato neanche un pochino Quindi, beh ragazzi, direi che queste impostazioni andranno avanti per un bel po' Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, vi lasciate un like il primo video della settimana E niente, visto che sono amare, se lasciate un bel like e vi iscrivetevi al canale, farò un tuffo anche per voi E niente, come detto prima, vi lasciate un like e vi iscrivetevi al canale E niente, vi dicevi che i prossimi giorni di questo video, ciao a tutti Ciao a tutti